Grazie, grazie Fra Italo. Allora, questa mattina vogliamo parlare di musica presentandovi un libro. Salutiamo il nostro primo ospite di giornata, Don Claudio Zonta. Come la musica riesce a essere spiraglio sull'infinito. Questo è il suo libro edito da Ancora Edizioni. Buongiorno Don Claudio, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, perdonami, i tempi televisivi a volte sono davvero strani. Certe volte abbiamo tanto tempo, certe volte ne abbiamo di meno. Dobbiamo fermarci per un tassativo, quindi andiamo in pubblicità così poi torneremo e faremo questa bella chiacchierata insieme. Resta con noi. Lì nella regia. La musica dei cantautori, spiraglio sull'infinito, si intitola Luci sul palco edito da Ancora Edizioni, scritto da Don Claudio Zonta. In collegamento con noi questa mattina. Buongiorno Don Claudio, benvenuto. Buongiorno a tutti e buona mattinata. Buon inizio di settimana anche a lei. Allora, tutti i cantautori che lei ricorda, di cui parla in questo libro, hanno un filo rosso che li accomuna. Quali? Quale? Diciamo che forse un filo rosso che si può identificare è la grande umanità rispetto al mondo e all'essere umano, dove anche lo sbaglio non è concepito come un'ultima parola, ma proprio il termine era rare nel suo doppio significato di sia di sbagliare ma anche di continuare a camminare. Che non è solo un buonismo, perché poi forse viene sempre condannata un po' da tutti i cantautori, l'arroganza, la prevaricazione e il potere. Questi aspetti vengono sempre un po' condannati, mentre c'è sempre un, diciamo, uno spiraglio di speranza rispetto alla vita umana, alla dignità umana. Ecco Don Claudio, da Lucio Dalla a Giunirusso, che cosa emerge dai cantautori e dalle cantautrici che presenta nel suo libro e poi se ha utilizzato un criterio particolare nella scelta? Dunque, parto dalla scelta e sono cantautori fondamentalmente che mi hanno un po' segnato nella vita, nell'adolescenza e durante i tempi della scuola e che ho continuato poi a seguire. Questo è un po' quello che a me hanno proprio insegnato nel senso di porre il segno. E poi, diciamo che ciascun cantautore poi, secondo me, declina un tema nelle diverse modalità. Per esempio, in De André, fondamentalmente, sin dall'inizio, che la prima canzone è preghiera in gennaio, l'ultima è smisurata preghiera, c'è una ricerca di un assoluto che passa da un'immagine di Dio che è giudice, a volte intransigente, implacabile, fino a un'entità, un assoluto che invece è capace di dare dignità a chi è stato escluso per tutta la vita. In Guccini, invece, forse il tema fondamentale è il dubbio e un po' l'apofatico, ossia trovare l'assoluto nella sua negazione. Gli Annacci ha un'attenzione particolare anche qui verso gli ultimi o verso coloro che negli anni 70 passavano la vita dentro le fabbriche. Gabra invece decostruisce tutto, però poi ha comunque una speranza nell'umano, nonostante tutto. Dalle invece è un giullare, nel senso è difficilissimo da porre delle categorie. Gian Maria Testa ha scritto un concept album sulle migrazioni moderne, siamo nel 2010, da questa parte del mare, mentre Junior Russo ha una fase estremamente forte di rilettura dei mistici da San Giovanni della Croce a Santa Teresa d'Avila, così come imbattiato, forse lui stesso, mistico delle sue canzoni. Quindi ciascuno ha un suo filone, un suo tema che viene poi declinato più volte nelle sue canzoni, ovviamente cercando di sintetizzare in categorie abbastanza generali. Ecco, mi ha colpito molto la copertina del suo libro perché c'è appunto un microfono e c'è uno sgabbello e quindi ognuno, come dire, su questo sgabbello può porre il cantautore o la cantautrice del proprio cuore. A mo' di telegramma, Don Claudio, come la musica può illuminarci, sia spiritualmente che umanamente, può illuminare la nostra vita? Io penso che in questo periodo si senta tanta musica, forse non so quanto si ascolti, nel senso che per far sì che le canzoni possano entrare nel proprio cuore e mettere in dialogo la propria anima con la canzone, questo richiede forse un processo un po' più lungo che non sia solo quello del sentire, cioè nel senso di abbiamo forse la possibilità di fermare un po' il tempo, di ascoltare e lasciare che la musica, che poi funziona in una maniera differente rispetto magari ai testi, nel senso che la musica entra nelle emozioni molto direttamente. Il testo di solito ha un passaggio rispetto, è più razionale, nel senso va capito, va compreso. Il fatto che la musica porti anche le parole così immediatamente dentro il nostro cuore, la nostra anima, questo ci aiuta secondo me a fermarci un attimo, comprendere e ecco il secondo passo che però è imprescindibile, puoi riuscire a capire che cosa succede in noi, cioè quindi mettersi in relazione con un testo, con una musica e comprendere perché alcune parole ci dicono qualcosa rispetto alla nostra vita. Questo direi che forse è la forza della canzone, nel senso che non è solamente un sentire, una colonna sonora della nostra vita, però può avere anche un influsso maggiore, che poi sfocia in riflessione, in dubbio, in un cammino, ecco questo ci può aiutare secondo me. Ecco Don Claudio non parla solo di musica, non l'ascolta solo ma alla pratica. Infatti da fino a giovane si è districato tra la musica rinascimentale, barocca, il jazz, il cantatorato fino a spingersi nel flamenco e nella musica sudamericana. Attualmente collabora con l'orchestra popolare italiana del maestro Ambrogio Sparagna, quindi pane e musica caro Don Claudio. Allora la ringrazio di cuore, voglio ricordare il suo libro, edito da Ancora Edizioni, luci sul palco, la musica dei cantautori, spiraglio sull'infinito. Eccolo qui. Grazie, torneremo a collegarci con lei se vuole magari per tornare a parlare della bellezza della musica. Grazie, buona giornata Don Claudio. Grazie altrettanto, buona giornata a tutti.